Troppi impegni di lavoro, Luciano Campitelli fa un passo indietro, non sarà dirigente del Pescara, sono sempre in giro per la mia azienda, non potrei dare tutto me stesso, spiega l'ex presidente del Teramo che comunque starà vicino al Delfino ma solo sotto forma di sponsorizzazione. Oltre che al rafforzamento del club, il presidente Daniele Sebastiani è concentrato sulla composizione della prossima rosa con il chiaro obiettivo di allestire un organico che possa dire la sua, ma prima dei giocatori il Pescara deve assicurarsi il nuovo allenatore. In pole position c'è sempre Attilio Tesser, mister supernavigato che conosce la categoria amminadito e che è molto ambizioso, facile ad esumere che con lui in panchina il progetto sarebbe importante. In seconda battuta c'è Fabio Caserta che piace per il gioco che fa praticare alle sue squadre e non è ancora tramontata la pista che porta Francesco Baldini, ex Perugia e Trento molto legato a degli carri. Sul fronte calciatori Milani piace al Bari e al Palermo un discreto mercato, ce l'ha pure Mesic, le offerte per i due calciatori sono al vaglio del club che punta a fare cassa. Grazie.